Esce di casa e dell'inferno. Un'automobile imbottita di esplosivo fa scempio del magistrato, dei due agenti di scorta e del portiere dello stabile. Cosa nostra siciliana elimina in questo modo un magistrato incorruttibile che troppo ha capito, che ha troppi da fastidio. Da fastidio il suo attivismo, è il padre del primo pool di magistrati che si dedica specificatamente al contrasto alla mafia, un pool dove tra gli altri ci sono Falcone e Borsellino. Quando si dice che a Palermo buona parte dell'economia si fonda sulla droga, non si esagera. Ha compreso Chinnici che la mafia realizza colossali guadagni con la droga e ricicla il denaro nell'edilizia. Intravede le connessioni con l'alta finanza, la politica, l'imprenditoria. Ha compreso che i mafiosi vanno colpiti nell'unica cosa a cui sono sensibili, il denaro, e ne insegue le tracce nelle banche. Ha capito Chinnici che servono nuovi più adeguati strumenti legislativi e così paga in modo estremo il suo rigore, il suo profondo senso dello Stato, la sua fedeltà alle istituzioni. Ha un senso il suo sacrificio? Dobbiamo lavorare per rinnovare la memoria e soprattutto per essere testimoni concreti di quei valori.